Come si fa a capire quali sono le dimensioni della crisi che stiamo vivendo da sette anni? Non c'è parametro migliore che quello della denuncia dei redditi, perché gli indici, le statistiche, le previsioni che ogni giorno ci piovono addosso, sì, ci danno una idea, ma è solo una piccola idea, una parvenza della realtà. Invece la denuncia dei redditi può essere, anzi è davvero la cartina di tornasole, cioè al CUD o dal modello 740 si capisce veramente in quali condizioni siamo e adesso stanno venendo fuori dati che si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi che gli italiani hanno presentato per il 2013. Ecco, da questi dati emergono degli indicatori molto importanti. La situazione non è, diciamolo subito, confortante. Non è che ci aspettassimo qualcosa di diverso, però la situazione che emerge ci sembra grave. In cinque anni di crisi, ad esempio, dal 2008 al 2013, il reddito complessivo degli italiani è sceso del 3,27%, con punte record in aree impensabili. Pensate, la ricca Costa Smeralda, la provincia di Olbia, ha perso quasi il 7%, oppure la ricca provincia di Prato. E per la prima volta i redditi sono scesi anche nelle regioni del nord. La Milano ha treviso, anche se la differenza con il sud rimane. Un barese, per esempio, ha portato a casa nel 2013, mediamente, 17.100 euro. Un milanese ha guadagnato 27.400. C'è una bella differenza, no? Beh, comunque, non potevamo aspettarci altro. Anzi, guardando la situazione oggettivamente, dovevamo forse aspettarci di peggio. E questo ci richiama ad una riflessione, ad una domanda. Perché? Che cosa è successo nel periodo 2008-2013? Che il nostro prodotto lordo è sceso del 9%. Beh, i redditi sono calati solo del 3,21. Perché? Come mai? Perché apparentemente i conti potrebbero non tornare. E però non sono sbagliati. Quelli sono, sono conti reali. E quindi allora la spiegazione c'è, una spiegazione c'è. È questa. Il crollo del PIL ha massacrato i guadagni privati e quelli degli operai. Però non ha intaccato, nonostante il blocco, ad esempio, gli stipendi degli statali. Non ha intaccato le pensioni. Statali e pensioni rappresentano l'altra metà del cielo. Quindi anche nella crisi l'Italia ha viaggiato e viaggia a doppia velocità. Chi perde è chi, nel peggiore dei casi, pareggia. Ma, lo chiediamo al governo Renzi, quando torneremo a vincere?